Buongiorno a tutti, molti sul blog di Beppe e anche sul mio voglioscendere.it mi hanno chiesto di parlare della mia condanna per diffamazione nei confronti di Cesare Previti in primo grado, non intendo farlo perché non intendo usare questo spazio per ragioni mie, penso che per difendersi dai processi bisogna andare nei processi e se una sentenza non la si condivide la si deve appellare, quindi la sentenza poi non c'è neanche ancora, non è stata depositata, lo sarà fra 60 giorni, ci sarà modo eventualmente di leggerla e di capire che cosa abbia trovato di diffamatorio questa giudice in un mio articolo che comunque è disponibile sul mio blog perché chi vuole si faccia un'idea. volevo invece partire da questo caso o non caso a seconda, perché una persona che frequenta il blog Voglio Scendere mi ha mandato un'email, anzi un'email riportandomi il messaggio che lui ha spedito via mail al direttore del Tg1 Gianni Riotta, in cui lo esprimeva stupore per il fatto che il Tg1 che non dà manco le notizie delle condanne ai ministri, agli imprenditori, ai parlamentari, avesse trovato il tempo per dare la notizia della condanna a me che sono un privato giornalista e che oltretutto non solo era una condanna per diffamazione e non certo per aver rubato, ma era anche soltanto una condanna in primo grado e il Tg1 naturalmente non l'ha detto, per cui per esempio alcuni miei parenti si sono molto spaventati pensando che io dovessi immediatamente andare in carcere per 8 mesi. Dice questo ragazzo, Andrea Riotta, almeno Travaglio il coraggio di parlare e di scrivere di Previti e C ce l'ha e non è servo di nessuno, inoltre è piccolo particolare la condanna in primo grado anche se questo il Tg1 l'ha dimenticato. Il Tg1 telegiornale del servizio pubblico e non partitico ha mostrato una volta di più il suo vero volto al servizio dei soliti noti. Loro non molleranno mai, noi neppure. Distinti saluti, Andrea D'Ambra. Questa è la risposta che gli dà Riotta. Caro D'Ambra, abbiamo dato una notizia come sempre facciamo, capisco che per lei è una brutta notizia, ma se le stesse a cuore il mio pensiero, sappia che io sono contrario a qualunque condanna per diffamazione sempre. Preferiva non dessimo la notizia? Si chiama censura e è qualcosa che in Italia è frequente, GR cioè Gianni Riotta, è talmente frequente che lui se ne intende parecchio di censura, visto che censura tonnellate di notizie ogni giorno. Naturalmente il fatto di essere contrario alle condanne per diffamazione è sempre una pura follia, i giornalisti che diffamano devono essere condannati per diffamazione, poi uno deve decidere se sia più saggio la pena pecuniaria, la pena detentiva, l'obbligo di rettificare, si vede, ma non è che noi possiamo vivere con la licenza di uccidere senza che veniamo minimamente sanzionati, altrimenti ci sarebbero diffamatori professionali che continuerebbero senza nemmeno la paura di essere puniti, per carità, lungi da me chiedere l'abolizione del reato di diffamazione, semmai bisognerebbe tipizzarlo meglio e stabilire che quando uno racconta un fatto vero non si scappa, le parole che ha usato, il contesto nel quale l'ha raccontato non contano, conta soltanto il fatto vero e quando esprime una propria opinione, anche se è per dire che il Presidente degli Stati Uniti è un cretino, può dire che il Presidente degli Stati Uniti è un cretino, se poi lo motiva e infatti negli Stati Uniti si può dire che il Presidente degli Stati Uniti è un cretino. Il regista Michael Moore ha pubblicato un libro che in Italia è edito dalla Mondadori che si intitola Stupid White Man e che si riferisce all'attuale Presidente degli Stati Uniti Bush, al quale viene dato del coglione praticamente e non è successo niente. Con queste precisazioni, se però uno pubblica un fatto falso e si rifiuta di rettificarlo sul giornale, allora certo che deve essere sanzionato per diffamazione, ma il ragazzo gli risponde ancora e gli dice Caro Riotta, per me la brutta notizia è quella che sono costretto a vedere quotidianamente con i 10 minuti e passa di sfilate di politici a cui non viene fatta nessuna domanda, ma a cui si lascia semplicemente lo schermo e il microfono, nessuna critica, nessuna informazione data ai telespettatori. A che serve il giornalista? A che serve chiamarlo telegiornale? Basterebbe spazio autogestito, dai partiti ovviamente. Nonostante la mia giovane età, fortunatamente ho avuto modo di visitare qualche paese all'estero e devo dire che in nessuno di questi ho visto un telegiornale pubblico che faccia ciò che purtroppo accade nel vostro, nel nostro, perché è di tutti e non dei partiti, Tg1. Sinceramente non riesco a ricordare di aver mai visto una notizia al Tg1 come quella sulla condanna di Travaglio quando queste riguardavano non giornalisti, ma ministri parlamentari, banchieri e imprenditori, ne ricordo informazione sulle prescrizioni di Berlusconi e Andreotti che anzi voi avete sempre scambiato per assoluzioni. La censura lei deve conoscerla bene, se mi dice che in Italia è frequente, perché bisogna passare da uno posto all'altro, censurare o fare cattiva informazione? Era così dura specificare che si trattava di una sentenza di primo grado? Ci avete bombardato di interviste e notizie sull'inquisito ex Presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, lo avete dipinto come un martire? Probabilmente lo sarà. Del Turco è la dimostrazione che quando riguarda altri il Tg1 dà la parola all'imputato, invece questa volta con Travaglio, guarda caso, così non è stato. Ha ragione Travaglio a sostenere che ora, se foste coerenti, dovreste fornire tutti i nomi dei giornalisti del Tg1 condannati negli ultimi anni, in primo, secondo e eventualmente terzo grado, ci sarà da divertirsi. Penso che sia giusto chiedere al Tg1, non perché ha dato la notizia della mia condanna, se lo facesse con tutti, ma perché ha dato la notizia solo della mia? Io spesso sono costretto a spiegare che tutti i giornalisti che fanno cronaca giudiziaria, soprattutto quelli, vengono querelati ormai dalle persone appena le nominano, Previti è uno che querela anche quando viene semplicemente nominato, in quell'articolo per il quale sono stato condannato era Mezzariga, querela quando lo nomini, quindi i giornalisti che fanno la giudiziaria hanno di solito centinaia di cause fra penali e civili per diffamazione, se uno fa la pesca a strascico è chiaro che poi alla fine qualche giudice che magari sbagliandogli dà ragione, lo trova e allora o si danno tutte le notizie o non se ne da nessuna, non mi ricordo che il Tg1 abbia dato notizia delle condanne di altri, non ricordo nemmeno che abbia raccontato che Bruno Vespa ha perso la causa in primo grado con Roberto Zaccaria, il Presidente della RAI, per aver inventato un complotto nella campagna elettorale del 2001 e aver raccontato che c'erano state riunioni fra politici e il Presidente della Rai per fare in modo che Satiricon invitando me e Santoro parlando di Delutri e della mafia facessero uno sgarbo al Cavalier Berlusconi, era tutto inventato, i testimoni citati hanno smentito, era una bufala di Vespa, una delettante, Vespa è stato ha perso la causa e soccombente in primo grado in quella causa, non ricordo che il Tg1 abbia dato notizia eppure Bruno Vespa credo sia molto più famoso di me che faccio 5 minuti alla settimana ad anno zero, mentre Vespa fa due ore al giorno. Chiusa parentesi per dire che cos'è il giornalismo, se andate sul canale di Rai Sat Extra oppure se volete andare su Dago Spia, trovate la trascrizione dell'intervista che David Letterman ha fatto a John McCain, sapete che due settimane fa John McCain con una scusa, poi rivelatasi falsa, aveva disertato l'intervista al Letterman Show e David Letterman l'aveva sputtanato pubblicamente dandogli del bugiardo, da noi che cosa sarebbe successo? Da noi un McCain italiano avrebbe querelato e fatto causa civile chiedendo milioni di dollari al giornalista cattivo. In America, dove hanno tanti difetti ma la democrazia funziona, McCain si è presentato da David Letterman, è un gesto che indica di per sé stesso il fatto che McCain ha capito di avere sbagliato e ha capito che per recuperare consensi davanti al pubblico trasversale che vede Letterman ha dovuto andarci e sottoporsi a domande del tipo, guardate ve ne leggo soltanto due perché poi le altre ve le trovate voi. Che rapporti aveva col suo finanziatore Liddi, uno che era finito in galera? Seconda domanda, la Palin potrebbe essere Presidente, il Vicepresidente prende il posto del Presidente quando sta poco bene e governa uno Stato con 24 mila impiegati e avanti di questo passo, tra prese per il culo e domande serie addirittura sui finanziatori che sono finiti in galera. Pensate un David Letterman Show in una campagna elettorale italiana, sarebbe un po' come avere Grillo che fa porta a porta, sarebbe un anno zero dove Santoro può intervistare i leader perché magari ci vanno, mentre ad anno zero, come avete visto, almeno finora i leader non si avvicinano avendo la possibilità ovviamente di avere Vespa, che le domande non gliele fa, oppure che gli prepara dei compitini e delle pietanzine o dei vestitini cuciti addosso, come disse in una famosa intervista. Forse anche Riotta che se la tira da americano, americano del Kansas City come direbbe Alberto Sordi potrebbe dare un'occhiata, Letterman oltretutto è un intrattenitore, non è un giornalista, probabilmente le condanne dei politici Letterman le darebbe, invece di occuparsi di quelle provvisorie dei giornalisti, anzi di un giornalista e basta. Vi segnalo due o tre notizie che naturalmente non troverete mai al Tg1, una l'ha data ieri anche il blog di Grillo, il sequestro dell'area destinata all'inceneritore Marcegaglia in Puglia, con indagini che vedono indagato anche un funzionario della regione per il settore ambiente. Il gruppo Marcegaglia, importante sia di per sé perché è un colosso della siderurgia, sia perché la figlia del fondatore Steno Marcegaglia è Presidente della Confindustria, è spesso protagonista di notizie di tipo giudiziario in questo periodo. Muoiono operai nei cantieri Marcegaglia e il Tg1 non dice una parola. Steno Marcegaglia viene condannato insieme a Colaninno e a Geronzi, 4 anni ha avuto, 4 anni e un mese come Colaninno per il crack Bagaglino Italcase e il Tg1 naturalmente non dà la notizia. Il gruppo Marcegaglia patteggia per corruzione come azienda e poi tramite il suo rappresentante che è il figlio di Steno e fratello della signora Emma Marcegaglia per corruzione, per tangenti in cambio di appalti dall'Enipower, silenzio del Tg1 e adesso il sequestro del cantiere. Ma andiamo avanti, abbiamo una splendida notizia da Milano, Marcello Dell'Utri dichiara a parte i suoi errori, Mussolini non era quel greve individuo che hanno cercato di lasciarci come immagine dopo la guerra, il Duce era un uomo che aveva molte qualità e dai diari emerge l'aspetto umano, la sua cultura, la sua capacità politica e di statista in maniera prepotente. Siamo in tempo di riabilitazione naturalmente e quindi quando uno dice a parte gli errori, certo se uno mette da parte tutti gli errori diventiamo tutti dei santi. Il bello non è tanto la riabilitazione di Mussolini che purtroppo non è un'esclusiva di Dell'Utri, abbiamo sentito anche Berlusconi, abbiamo sentito anche recentemente Alemanno, in passato fini. Il bello è che viene fatta sulla base dei cosiddetti diari di Mussolini che ogni tanto Dell'Utri presenta alla stampa nella speranza che la stampa si sia dimenticata che sono falsi. Dell'Utri ha investito non so quanti soldi nell'acquisto dei cosiddetti diari di Mussolini che tutti gli storici hanno già stabilito essere un falso grossolano anche. Continua a presentarli alla stampa dicendo che vedete che aspetti umani vengono fuori, sì, ma sono aspetti umani del falsario, non di Mussolini. Quando vedete invece in televisione parlare di Dell'Utri di solito se ne parla nella sua veste o di politico o di bibliofilo. La domanda è come possa essere bibliofilo uno che non riesce a distinguere dei diari veri o dei diari falsi che tra l'altro tutti i giornali d'Europa hanno definito falsi. Un'altra notizia che credo sia sfuggita al Tg1 e che meriterebbe forse approfondimenti è la decisione della Gcom, l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni, le cosiddette authority come le chiamano all'inglese perché quando vogliono fregare la gente usano un termine inglese così glielo mettono in quel posto all'inglese, l'authority e dal governo Berlusconi insieme hanno deciso finalmente di dare una frequenza a Europa 7 che aspetta dal 99 di avere le frequenze per poter finalmente accendere le trasmissioni dopo aver avuto la concessione. Era ovvio che tutti si aspettassero che le frequenze venissero tolte a chi non ne ha più diritto, sapete che per la Corte Costituzionale Rete 4 deve andare su satellite e che per il bando di gara del 99 Rete 4 ha perso la concessione a trasmettere, se trasmette è perché i governi le hanno continuamente concesso proroghe per fare una cosa che non potrebbe più fare. Abbiamo un occupante abusivo di frequenze pubbliche, naturalmente, che si chiama Mediaset, abbiamo un imprenditore che a quelle frequenze ha diritto da 9 anni, abbiamo il Consiglio di Stato e la Corte europea di Lussemburgo e la Commissione europea che hanno stabilito che questo signore debba avere delle frequenze, rischiamo multe altissime non solo per tutti gli anni passati ma anche per il futuro, se non verranno date queste frequenze e cosa decidono la Gcom e il governo Berlusconi? Che allora la frequenza la portiamo via a Rai 1 e Rete 4 continua a tenersi quelle che non potrebbe avere, io lo trovo spettacolare, c'è un signore che ha affittato casa, la casa è occupata da un abusivo, invece di mandare via l'abusivo, prendono un signore che ne ha affittato a un altro, lo sbattono fuori di casa e ci mettono quello per non disturbare l'abusivo, lo trovo meraviglioso, non credo che la cosa si sia molto notata in questi giorni in televisione e dire che viene portata via a Rai 1 questa frequenza, quindi forse il Tg1 avrebbe potuto magari farlo notare, non dico protestare perché figuriamoci protestare contro un governo così meraviglioso, però almeno farlo notare. Andiamo avanti perché le notizie che non avrete mai si accavallano, per esempio, non so se Riotta si senta chiamato in causa, ma c'è il Financial Times che sostiene che in Italia Berlusconi riceve dai media, televisioni e molti giornali, una adulazione vicina ai livelli nordcoreani. Chissà se il giornalista corrispondente da Torino, Guy Dain Moore, ha mai visto il Tg1 per formarsi questa idea secondo cui Berlusconi viene trattato altrettanto bene che il presidente King Yong II, che è praticamente il caro leader, come lo chiamano in Corea. Vedremo se si riferiva o meno al Tg1, livelli di adulazione pari a quelli nordcoreani, non credo che sia stato mai nemmeno raccontato un altro fatto veramente significativo, che è quella cronaca dall'estero che aiuta a capire cosa succede in Italia rispetto agli altri paesi e quali sono gli standard di democrazia da noi rispetto alle democrazie normali. La cronaca estera di solito la fa quello col ciuffo dall'Inghilterra, la fanno degli strani personaggi, alcuni anche bravi, ma altri molto strani che ritengono che per il fatto di trovarsi all'estero devono fare del colore, del bozzettismo, devono essere simpatici, quindi parlano sempre di qualche vicenda pruriginosa nelle corti reali europee, pettegolezzi, gossip, la cronaca estera è diventata gossip e purtroppo all'estero succedono anche cose serie, tutt'altro che gossipare, per esempio Mandelson, il re dell'alluminio e il super yacht, nuovo scandalo per l'ex commissario europeo, il politico laborista appena richiamato al governo dal Premier Brown rischia di doversi di mettere per la terza volta, che cosa avrà mai fatto questo collaboratore di Blair, questo ministro del business? La combinata veramente grossa, tant'è che ci sono delle scommesse su di lui che danno 10 a 1 l'addio prematuro. Lui è stato per quattro anni commissario al commercio dell'Unione Europea e adesso è arrivata su di lui un'indiscrezione poco edificante. Lui ha passato l'estate a Corfu nella villa di Rothschild e fin qui dice il Corriere della Sera niente di male, ma una bella mattina al molo della villa ha traccato il Queen K, superiote di proprietà dell'oligarca russo Oleg Deripaska, in arte re dell'alluminio. Che cosa ha fatto l'incauto ministro di Gordon Brown? È salito su quello yacht per qualche ora? Secondo alcuni per un drink, secondo altri addirittura per cena e per passarci una notte, ha accettato un'ospitalità per una notte sullo yacht di un oligarca russo. Adesso si domandano se si debba dimettere da ministro, credo che noi faremmo la firma se i nostri ministri si limitassero a accettare un passaggio o un drink sullo yacht di un oligarca, anche perché l'oligarca numero uno ne ha parecchi di yacht, oltre che di ville e nessuno gli ha mai chiesto niente. Altro dall'estero, Sara Palin. Sara Palin ha perso punti, oltre a quelli che aveva già perso per le ignorantate che fa ogni volta che apre bocca, perché si è scoperto che in Alaska, dove lei è governatrice, c'è un'indagine sull'Alaska da parte del congresso americano che riguarda il licenziamento del capo della Polizia dello Stato dell'Alaska, Walter Monaghan. Perché è stato licenziato da Sara Palin il capo della Polizia? Perché non avrebbe avuto l'astuzia di esaudire un desiderio della Palin, anzi andò contro i voleri della Palin e che cosa fece? Danneggiò un parente della Palin e quindi per ragioni di parentela, c'è scritto qua sul Corriere, secondo il capo degli investigatori ci sono prove sufficienti per dimostrare che Sara Palin e suo marito Todd cercarono una vendetta personale contro un agente protagonista di un divorzio astioso dalla sorella del Governatore, è evidente che Todd Palin abbia abusivamente usato l'ufficio e lo staff della moglie senza che lei obiettasse, quindi c'è un poliziotto che divorzia dalla sorella della Palin, la Palin chiede al capo della Polizia di punirlo, il capo della Polizia non lo punisce e lei trasferisce il capo della Polizia. Una storia che ricorda vagamente una vicenda rosa che è finita sui giornali, non sul Tg1 naturalmente per carità, Tg1 dà le notizie, mica dà gli scandali, qualche mese fa si scoprì che una valletta della Rai era diventata molto amica, diciamo così, molto amica del nostro Presidente del Consiglio, nel frattempo si era separata dal marito con con il quale però aveva ancora dei rapporti, anche perché avevano un piccolo figlio insieme e quindi a un certo punto per tenerlo buono la ragazza sarebbe intervenuta per fare in modo che il marito venisse promosso, il marito lavorava ai servizi segreti, credo al SISDE e ottenne delle gran belle promozioni grazie a questa simpatica amicizia tra il nostro Presidente del Consiglio e la valletta, se non che poi i due litigarono le trattative per chi dovesse tenere il figlio e cose del genere e andarono a ramengo, i due non si parlavano più e quindi, guarda caso, il marito fu degradato e spedito a un incarico dove guadagnava un terzo di quello che guadagnava prima. Allora lui scrisse una lettera dicendo che se avesse parlato lui avrebbe potuto rovinare il nostro attuale Presidente del Consiglio proprio in campagna elettorale e guarda caso, recuperò le posizioni perdute e fu riportato in auge con una decisione che qualcuno attribuisce addirittura al nostro attuale Presidente del Consiglio e poi l'Espresso scoprì che c'era pronto a Palazzo Chigi un decreto per nominare questa graziosa signorina portavoce del governo e del Presidente del Consiglio. Anche lì si sarebbe potuto parlare di abuso di potere se qualcuno avesse parlato della faccenda, invece per fortuna il Tg1 ha cose più interessanti, dalla Norvegia intanto giunge notizia che c'è una deputata che telefonava alle maghe e che non verrà più ricandidata alle europee, è una parlamentare laburista. Dall'Inghilterra giunge notizia che il Parlamento inglese ha respinto la legge antiterrorismo presentata da Brown, noi ci domandiamo ma com'è possibile che il Parlamento respinga una legge fatta dal governo che ha la stessa maggioranza che c'è in Parlamento? Eh, dove funziona la democrazia il Parlamento è autonomo e controlla il governo fermando qualche abuso ogni tanto, come è capitato anche con la prima versione del decreto salvabanche di Bush e del suo ministro. Ma vorrei concludere con una notizia che induce veramente all'ottimismo, anzi due, vengono dalla Campania, regione più che mai martoriata. Che cosa succede? Una è il ritorno di Pomicino, Pomicino che era rimasto fuori dal giro per pochi mesi, non di più. Voi sapete chi era Pomicino, era l'ex ministro del bilancio della Prima Repubblica, noto per l'allegria nella gestione del bilancio pubblico negli anni in cui il debito pubblico schizzò alle stelle, non era solo colpa sua, ma diciamo che era anche colpa sua, visto che tra Commissione bilancio e Ministero del bilancio ha messo le mani sui nostri soldi per molti anni, oltre a essere poi stato condannato per corruzione, per finanziamento illecito, ma questi sono dettagli, è stato nominato al controllo strategico della pubblica amministrazione. Chi l'ha nominato? Il ministro Rotondi, comitato scientifico di Palazzo Chigi per il controllo strategico della pubblica amministrazione. Abbiamo l'esperto in buchi che va a fare il controllo strategico, è una cosa meravigliosa, sono notizie che portano un grande ottimismo per il risparmio proprio che noi avremo grazie a Pomicino, ce lo fa pensare almeno, chissà com'è contento Brunetta che ai tempi del debito pubblico era uno dei consiglieri di Craxi, quindi dava una mano anche lui a scavare il buco, mentre oggi dà una mano a riempirlo, sempre con i soldi nostri ovviamente. L'altra notizia con cui vi lascio è questa, cito dal mattino, sono esattamente nove righe, una micro brevina di quelle tipo fuggito barboncino, ricca ricompensa a chi lo ritrovasse, a volte ritornano o forse non se ne sono mai andati. Eccone uno, Carlo Camilleri, il consuocero di Clemente Mastella, è stato eletto Presidente di Cofindi Benevento per il prossimo Triennio, ingegnere titolare di un importante studio di progettazione. Camilleri lo scorso gennaio fu coinvolto in un'inchiesta giudiziaria che sforziò negli arresti suoi ma anche della sorella, la consuocera, la moglie di Mastella, dove è indagato anche Mastella all'inchiesta di Santa Maria Capovettere. Lui fu arrestato prima in carcere e poi a domiciliari per associazione delinquere, falso materiale ideologico, commesso dal pubblico ufficiale, corruzione, turbata, libertà degli incanti, truffa, rivelazione, segreti d'ufficio, concussione, insomma una bella serie di reati. Camilleri è stato eletto all'unanimità dall'assemblea dei soci insieme al Consiglio d'amministrazione. Qualcuno di voi dirà ma che cosa diavolo è questo Confidi? Perché il nome è molto bello, Confidi sa di fiducia, sa di confidare, che cos'è? È spettacolare. Confidi è l'organismo promosso dall'Unione Industriale di Benevento e significa consorzio di garanzia collettiva Fidi, con lo scopo di facilitare l'accesso al credito bancario attraverso la concessione di garanzie collettive a condizioni particolarmente vantaggiose e trasparenti. Basato su principi di mutualità e senza scopi di lucro, il Confidi si rivolge alle piccole e medie imprese attraverso specifiche convenzioni bancarie etc., l'obiettivo è quello di sviluppare un sistema di garanzia sempre più accreditato e riconosciuto per elevare al massimo le capacità di accesso al credito delle imprese socie, quindi è un garante dei prestiti alle imprese, pensate a uno che è reduce dalla custodia cautelare per sei o sette reati, tra cui associazione delinquere, concussione, truffa e turbativa d'asta. Lo trovo meraviglioso e quindi mi auguro che anche voi abbiate seguito questo mio percorso verso un grande ottimismo e una grande fiducia finale e naturalmente mi auguro che facciate circolare queste notizie perché purtroppo il Tg1 non le ha date. Passate parola! Musica Musica